vorrei farti una domanda ti va di ballare certo perché ora mi sento così bene forse per le lezioni di danza dove hai preso questi orecchini non sono da te perché io sono soltanto un maschiaccio oppure perché me li ha dati Dozon nessuno dei due vedi questo questo è da te non è appariscente o vistoso ma semplice elegante bello è il braccialetto di mia madre lo so come fai a saperlo? beh perché me l'hai detto tu sei mesi fa indossavi quel quel maglione blu coi fiocchi di neve che metti spesso camminavi nei corridoi della scuola e io ti stuzzicavo come sempre e tu mi dicesti senti Pesi ho ritrovato il braccialetto di mia madre stamattina perciò cerca di lasciarmi in pace te lo ricordi ancora? io mi ricordo tutto grazie a tutti grazie a tutti a night and day they stand before the foot very safe but they were all alone